Aspetta! Chi è questa bellezza che vedo qui? Oh, ma sono io! Oh, che scocciatura! Ma che caviglie enormi ho! Sicura che vuoi mangiarle, Emma? Perché non aumentare le calorie, no? Ehi, non prendermi in giro! Ciao, Emma! Dieta, sei tu? Sì, presa! Wow, la mia dieta fa sul serio! Devo proprio darle retta, sì! Andiamo a fare cardio, va! Emma sarà pure a dieta, ma è lecito sognare, no? La fame è qualcosa di portentoso! Anche nell'inconscio! Abbiamo una sonnambula qui! Sonnambula è pure affamata! Devo trovare degli snack! Abbracciami con la tua luce, frigo! Ne sei proprio sicura? Dopo mi ringrazierai! Gli spuntini di mezzanotte finiscono sui fianchi! Beh, allora aspetto fino a domattina! Sono così grassa! Con questa mangiano quattro persone! Questa crema fa dimagrire! Proviamo, dai! Adios, cellulite! Sai che quella non funziona! Ma questa è la svolta! Wow! Ti ci rivesto tutta? Vuoi essere in forma o no? Ma è gelata! Ecco fatto! Già sembri più magra! Sei sicura? E ora la parte più divertente! Per cosa mi hai preso? Per gli avanzi di ieri! Oh no! Le gambe no! E se devo andare al bagno? E ora aspettiamo! Aspettiamo! Torna indietro! Forse dovrei pranzare! Che c'è di buono? Troppo sano! E qui invece? Niente! Ma ci vedo bene! È un regalino della Dea delle Schifezze! Oh, quanto mi siete mancati! Dove sono i dolci? Ma è uno scherzo! Questa dieta è una scocciatura! Il cassetto dei dolci! Me l'ero dimenticato! Devo solo aprire questo pacchetto! Dai, apriti e dai! Ma è assurdo! Ora vediamo chi comanda! Questo sì che è un allenamento! Voglio la mia cioccolata! Dai! Stupida plastica industriale! A mali estremi! Ah! L'ho rotto! Niente! È indistruttibile! Ok, rimarrò affamata a vita allora! A meno che... Mi farai svoltare la giornata! Ridi ancora per poco, cocca! Non hai proprio forza di volontà, eh? Fidati di me! So io cosa ti serve! La voglia di schifezze va estirpata per bene! Oh sì! Muori cioccolata spalmabile! Muori! Ok, ho finito! Divertite ad aprirla adesso! Ti ho solo fatto un favore! Sì, ce l'hai fatta! Aia! Odio la mia stupida dieta! Scaldiamo i muscoli! E uno! E due! Che fatica! Gli squat! E ora a terra! Questi sono gli esercizi che preferisco! Uno! E due! Ho gli addominali in fiamme! Tre! Ok, questo è il mio massimo! E ora aumentiamo la difficoltà! E... Plank! Devo stare su! Dai! Nove secondi! Sembravano sessanta! Devo fare una pausa! Scommetto di aver bruciato 5 chili! Ah sì? È il momento della verità! 54! Non è male! Vedremo! Ehi! Che succede? 68! Ho preso più di 5 chili! Devi fare altre ripetizioni, Emma! Shhh! Non è giusto! Ti sei mai sentita intrappolata in una dieta? Costretta? Ora sai come ci si sente! Ti dispiace se mangio un dolcetto? D'altronde, oggi è l'ultimo giorno di dieta! No, per favore! E posso mangiare quello che voglio! Senti questo rumore? E non ho mica finito! Bentornata cioccolata spalmabile! Mi sei mancata tantissimo! Sei pronto per questo dieta? Uh! Zuccheri! Ti fa arrabbiare dieta! Sei contenta che la dieta non sia una persona reale? Anche se a volte fa bene mangiare sano, tutti possono concedersi uno strappo alla regola! Condividi questo video con i tuoi amici per fargli fare una bella risata! Mi raccomando, iscriviti al nostro canale YouTube per vedere altri video divertenti! Iscriviti al nostro canale!